Ciao ragazzi, sono sempre io, Ludovico Cianchetta Vasquez, vi chiedo scusa per l'improvvisazione nel registrare il video. Qui di seguito vedrete la testimonianza di un nostro studente, uno dei primissimi studenti di B&B Academy, Davide, che opera su Palermo, ha deciso di operare solo nei mesi di altissima stagione, quindi nei mesi estivi. Avrebbe potuto tranquillamente col metodo B&B Academy affittare nella sua città anche 12 mesi l'anno, però comunque ha seguito uno dei consigli che diamo in determinate elezioni e per chi vuole operare solo nei mesi di alta stagione può tranquillamente affittare nei mesi di stagione più bassa con affitto classico. Lui così facendo guadagna 12 mesi l'anno prendendo sia una percentuale dagli affitti classici, sia una percentuale dagli affitti brevi, quindi riesce a guadagnare per ben 12 mesi l'anno da ogni singolo appartamento. È partito con due case seguendo i consigli di B&B Academy, ad oggi ne ha acquisite altre 5 per un totale di 7 ed è in fase di conclusione con un ulteriore appartamento per un totale di 8 case. Bando alle ciance, non vi annoio ulteriormente, vi lascio la videotestimonianza di Davide e vi ricordo che dai link qua in basso potete prenotare una consulenza gratuita su WhatsApp con il nostro team, piuttosto che una consulenza gratuita telefonica. Ed infine vi lascio anche il link al webinar 100% gratis, quindi un mini corso gratuito che vi spiega come funziona questo business. Vi lascio la videotestimonianza di Davide. Ciao! Ciao! Questi appartamenti di cui parlerà Davide sono tutti acquisiti ad investimento zero, quindi lui non ha investito neanche un euro ma un beneficio economico nell'ordine delle migliaia e migliaia di euro ad appartamento. Quindi questi appartamenti, ripeto, tutti ad investimento zero. E ci tengo a precisarlo perché spesso le persone magari sono scettiche e dicono ma come non è possibile, è difficile, eccetera, eccetera, eccetera. Qui avete la prova umana e trovate anche altre testimonianze all'interno del nostro canale di YouTube che è possibile con il nostro metodo acquisire appartamenti ad investimento zero. Ciao a tutti ragazzi della community di BB Academy. Ciao Ludovico e ciao soprattutto a voi futuri studenti di BB Academy. Io sono Davide, ho 26 anni e vengo da Palermo e sono qui per raccontarvi la mia storia che credo sia la storia più comune fra tutte le storie. Ho acquistato il corso a gennaio, l'ho divorato e subito quando mi ero deciso a cercare a mettere in pratica ciò che il corso mi aveva insegnato quarantena, pandemia. Eh, già, questo sogno era andato in fumo ancora prima di iniziare. Durante la pandemia mi sono dedicato molto alle consulenze perché c'è una lezione apposita che spiega come realizzarle, come effettuarle e ho ottenuto fin da subito un discreto successo in realtà. Sono riuscito a sistemare gli annunci, sono riuscito a dare consigli sull'arredamento e insomma ho cercato il più possibile di mettere in pratica e fare quel minimo di esperienza che poi mi sarebbe servita sul campo. Finita la quarantena, grazie al passaparola sono riuscito a trovare un proprietario di casa che aveva due appartamenti già avviati su Airbnb e il quale cercava proprio qualcuno a cui darle in gestione. Quindi mi sono proposto, ho avanzato le mie percentuali, ho descritto i miei servizi e dopo esserci accordati ho iniziato a lavorare. Ho iniziato che era luglio, circa, sì, metà luglio e fin da subito il tasso delle prenotazioni è aumentato alle stelle. Questo perché ho utilizzato il metodo Airbnb poiché nonostante la quarantena abbia ovviamente ridotto i prezzi degli appartamenti grazie a queste conoscenze è aumentato paradossalmente il numero di prenotazioni. E tuttora io continuo a lavorare in questi due appartamenti che verosimilmente adesso andrò ad affittare fino a maggio, circa perché a Palermo funziona molto il turismo estivo e nel frattempo sono riuscito a prendere in gestione altri sette, altri cinque appartamenti per un totale di sette e questa è una grandissima notizia questi appartamenti sono ancora in affitto attualmente e sono ancora in fase di trattative sul proprietario in termini di percentuali, eccetera ma se non ci fosse stato il corso se non avessi acquistato il corso che tra l'altro è stato il primo corso che ho acquistato e se non mi fossi fermato ai no che ho ricevuto nel frattempo non sarei mai e poi mai riuscito a ottenere questi risultati risultati che sicuramente diventeranno concreti già a partire dal prossimo anno quanto sistemerò questi appartamenti creerò gli annunci e insomma inizierò a lavorarci su con maggior frequenza quindi il consiglio che mi sento di darvi è ragazzi mai, mai, mai arrendersi mai arrendersi, mai arrendersi, mai arrendersi anzi continuate ad andare avanti continuate a mandare email, a cercare, a trattare con il proprietario il corso spiega perfettamente come si fa a trattare con il proprietario e farsi dare gli appartamenti e soprattutto studiate studiate il corso fate del corso la vostra bibbia io addirittura prima di iniziare stampai la versione cartacea del corso proprio perché mentre ero lì in casa mentre ero lì a sistemare io mi andavo a sfogliare la lezione e cercare di capire come quella cosa doveva essere fatta come mettere l'annuncio come fare le fotografie al meglio quello che mi sento di dire è semplicemente non vi fermate mai perché se vi impegnate i risultati arrivano che sia oggi o tra un mese o un anno chi lo sa ma iniziate iniziate a compiere quei primi passi perché sono di fondamentale importanza anche perché prima iniziate prima fate esperienza e soprattutto potete vendere questa esperienza ai clienti successivi ai proprietari di casa successivi io attualmente ho sette appartamenti di cui due già sono Airbnb altri devo ancora capire come sistemarli ho appena chiuso una trattativa per un altro appartamento insomma sicuramente da qui all'anno prossimo ne vedrò delle belle quindi ragazzi vi auguro buona fortuna e buon lucro a tutti ci aggiorniamo ciao